Il Parlare della Bibbia è un fatto molto interessante perché sappiamo tutti che cosa è stata fatta diventare questo insieme di libri che è diventato il testo sacro per l'eccellenza quello su cui è stato costruito ciò che sappiamo molto bene L'uomo potrebbe essere stato frutto di un qualche tipo di esperimento genetico extraterrestre Una possibile manipolazione genetica operata in tempi antichissimi su delle specie proto-umane Nimm, comparto cesareo, mette alla luce quello che è il prototipo d'uomo Grazie Grazie Grazie